Siamo con Pelliccioli, direttore sportivo del Grassobio, al termine di questo pareggio 1-1 in casa della capolista Comunuovo, partita viziata da delle condizioni atmosferiche pesantissime e da un campo al limite dell'impraticabilità. Ha lei il commento su questa bella partita? Come hai detto te, giustamente il campo era praticamente impraticabile, la palla faceva fatica a girare quindi molte palle lunghe e ci ha condizionato perché noi tendiamo a giocare molto palla a terra. Abbiamo già intratto di qualità più che di quantità e infatti abbiamo fatto una partita di lotta. I ragazzi hanno veramente risposto alla grande, ci sono messi in luce soprattutto in maniera differente dal solito perché hanno lottato su tutti i palloni, è uscita una partita bella da vedere, forse meritavamo qualcosina noi in più, però fa parte del calcio, abbiamo avuto una piccola disantizione sul calcio d'angolo e siamo comunque riusciti a fare un buon pareggio. Alla luce appunto di questo buon pareggio comunque su un campo dove praticamente è molto difficile vincere, quali sono adesso le prospettive da qui a fine campionato? Le prospettive sono sempre quelle iniziali di arrivare più in alto possibile, naturalmente speravamo di essere a lottare anche noi per il campionato, abbiamo avuto qualche piccolo infortunio, qualche sfortuna che ogni stagione a sé si sa e adesso punteremo a cercare di arrivare più in alto possibile per posizionarci per i play-off finali e più in alto sei meglio è naturalmente.